Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video, ovviamente Gams Go è una buona piattaforma per risparmiare sullo streaming, ovviamente Netflix, ascoltare musica su Spotify, comprare così YouTube Premium, Disney+, Paramount+, altre piattaforme per ascoltare musica e soprattutto il pacchetto Office per 2,50€ al mese. Io ovviamente in passato ho comprato degli abbonamenti, quindi come puoi vedere questi erano i miei vecchi abbonamenti di Netflix, Disney+, Paramount+, e poi ho dovuto ricomprare di nuovo Netflix. Quindi in questo caso se vuoi risparmiare sullo streaming ti insegno come usare questa piattaforma in pochi minuti e ti spiego anche come funziona. Ovviamente una volta comprato il tuo abbonamento, quindi se andiamo su Gams Go, io per esempio voglio comprare l'abbonamento Netflix, ok? Ed eccolo qua, Netflix. Quindi se io adesso vado su iscriviti adesso, acquista mesi, 2 mesi, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi a 37,77€ al posto di 80€. Però c'è anche un bonus, tipo uno sconto, hai un codice promozionale o un coupon, quindi il codice promozionale è questo qua che vedi sullo schermo. Oppure troverai direttamente il link di Gams Go, il mio Gams Go, più il codice promozionale per risparmiare. Quindi io quello che ti consiglio sono i 2 mesi, 7,27€ e potrai goderti Netflix fino a 4K. Ovviamente puoi comprare un profilo condiviso e 5 profili privati, 2 mesi, 30€, 12 mesi, 157€ al posto di 239€ per i 5 profili. Quindi tu puoi condividere questi profili con i tuoi amici, contribuire tutti insieme per 5 profili per un anno intero. Ognuno ha un suo profilo privato e può godersi Netflix fino a 4K. Quindi come accedere a Gams Go? Clicca sulla personcina qua sopra in alto a destra, accedi, puoi crearti un account o semplicemente fai con una tua email, qualsiasi. Io faccio con Google, accedo con il mio account Google, compro Netflix, iscriviti adesso. Compro Netflix, una volta comprato Netflix, ti manderanno delle credenziali in pochi secondi sul tuo account Google. Ed eccole qua. Ti arriverà così un email, account e password. Clicca qua sopra e ti dirà il tuo account, quindi l'email e la password. Le informazioni sull'ordine e una volta fatto le devi mettere qui su accedi. Metti le mail e metti la password. Accedi e entrerai così nel tuo nuovo account di Netflix. Quindi in questo caso, se hai problemi, entra nel mio server Discord. Scrivi direttamente a me, oppure scrivimi su Instagram, tutto sul mio canale YouTube. Qui c'è il link, il link lo troverai anche sotto al video, più il codice promozionale. Quindi se questo video ti è stato utilissimo su come risparmiare sullo streaming, ovviamente non solo Netflix, come ho detto Disney+, Paramount, Spotify, il pacchetto Office. Quindi grazie a tutti per questa visione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!